ciao a tutti ragazzi eccomi come al solito riemergere la nebbia però non è proprio il solito video perché oltre al cambio di location parlo di un qualcosa che ormai ho da parecchio tempo però non ho mai trovato il coraggio sinceramente di parlarne perché non mi sono mai sentito fondamentalmente all'altezza di parlare di questa cosa di questa mod poi col giusto incoraggiamento diciamo ho trovato il coraggio scusate il gioco di parole per parlarne quindi questo video questo cambiamento è tutto dedicato a una delle cose più belle che io abbia mai comprato sono sincero lo penso veramente chi mi segue quei pochi scemi che mi seguono lo sanno e ma basta aspettare sto parlando di lui del saiga ragazzi il tubo di caliber moz nato dalla mente malata tra virgolette in senso positivo di gianni albanesi questa è la confezione con il quale mi è arrivato già dalla confezione secondo me si capisce qual è stata la filosofia di gianni per lo sviluppo del progetto ovvero eleganza e semplicità che sembrano delle cose che non possano andare d'accordo no perché uno pensa che le cose semplici siano un po così però a mio avviso è così il saiga è elegante e semplice allo stesso tempo questa scatola nero matte o nero pago con questa rilievo che poi è l'incisione che si trova sul tasto e lucida poi all'interno della confezione sono un po emozionato in questo cartone che poi ci rimanda un po la semplicità troviamo questo gioiello quest'opera d'arte italiana e l'ho detto tante volte secondo me in italia ci sono ancora tanti artigiani artisti che possono dare tanto certificato di identicità questo è un 0 82 che poi 82 la mia data di nascita e all'interno c'è questo talloncino di cartone che tiene un pochino ferma la mod e un filino di istruzioni e poi chiunque ha seguito il progetto di gianni ma secondo me anche chi non ha comprato il tubo ma vuole andare a rivedere sul gruppo vape life tutti i video che poi ha messo su gianni comunque in cui spiega il progetto le varie fasi cioè è stato veramente qualcosa di emozionante ragazzi cioè seguire tutte le fasi di sviluppo del progetto vedere l'emozione che poi c'era in gianni nel trasmettere quella che era stata cioè si percepisce proprio la passione che che c'è stata nel sviluppare questo tubo e poi è un tubo ragazzi quando si parla di tubi non è che poi fondamentalmente ci sia così tanto da parlare però la cosa che mi aveva incuriosito da quando mi sono avvicinato a questo mondo e parlo di phantom ce4 mai avrei immaginato che il mercato si sviluppasse così tanto e che ci fosse così tanto dietro al mondo della sigaretta elettronica che trascendesse un po' secondo me dal concetto standard e andasse a finire in qualcosa di artistico ragazzi perché qui parliamo veramente d'arte è arte e artigianato che vanno di vari passo quello che mi ha colpito appunto è stato proprio il concetto di tasto adesso proverò a modo mio a parlarne ovvero quando mi sono avvicinato ai tubi per la prima volta o quantomeno ho cercato di leggere di capire la cosa fondamentale era la conduzione quindi il passaggio della corrente che più ostacoli incontra nel suo cammino più diciamo c'è un calo di volt il famoso drop voltage e quindi in tantissimi che cosa hanno fatto qui ci sono due scuole di pensiero secondo me ragazzi c'è ci sono determinate aziende che hanno fatto la scelta di creare il loro marchio diventare solidi sul mercato e poi far uscire comunque magari senza neanche troppe innovazioni le loro mode perché tanto erano fidelizzati a livello di di utenza di pubblico di acquirenti quindi magari non stanno non stavano non stanno neanche troppo a guardare l'evoluzione che c'è dietro a quella determinata tipo di mod e poi c'è chi si è in caponito è impazzito invece a dire no io voglio comunque eliminare il più possibile quello che possono essere le filettature o proprio gli ostacoli che la corrente può incontrare beh questo è uno dei pochissimi tubi al mondo che ha un'unica filettatura che è quella del 510 ragazzi molti che vedranno il video sicuramente mi faranno notare nei commenti o mi scriveranno in privato sul discorso dei vapor smooth e dei capolavori di Gianluca Cesati anche Gianluca Cesati ha soltanto il 510 però ha un concetto di tasto completamente diverso io non voglio fare assolutamente paragoni mi piacciono tantissimo anche scusate adesso ci scegliamo poi un po di musica non voglio fare paragoni mi piacciono tantissimo anche le creazioni perché per me queste sono creazioni opere d'arti di Gianluca ma voglio parlare di questo tubo ovvero di un tubo che ma più di un tubo di una persona che è riuscita ad eliminare praticamente gli ostacoli che può incontrare la corrente lasciando solo ed esclusivamente il foro del 510 quello è pressoché indiscutibile toglierlo a parte alcune sperimentazioni di tubi che hanno già direttamente l'atomizzatore inserito però quando parlo di un tubo c'è il 510 di solito ci sono altre filettature qui non c'è nulla e la genialità dove è stata vi faccio vedere prescinde che è un tubo stupendo pesa ma non è tra i più pesanti tanto rimetto un po di musichina non è assolutamente tra i più pesanti io l'ho pesato mi sembra siamo intorno ai 220 230 grammi di mod senza la batteria soltanto il tubo e il tasto ma dov'è la genialata cioè la mente malata di Gianni Albanese è stata qui io penso che non abbia dormito la notte per inventare questa cosa che poi quando uno la va a vedere c'ha cazzo sì ho capito ma per tirare fuori questo cioè io penso veramente non ci abbia dormito la notte che cosa ha fatto ha realizzato una filettatura all'interno del corpo del tubo prescindere cioè ragazzi un tubo io così lucido e così pulito non l'avevo mai visto ora un pochino l'ho utilizzato quindi va bene ma quando è arrivato era perfetto e a differenza di altri tubi si lucida e si pulisce con una velocità incredibile incredibile veramente impressionante proprio perché dietro c'è un lavoro spiegava Gianni nei vari video che ha uploadato sul gruppo di 5 6 o 7 passaggi per arrivare a questo livello di tubo e cosa ha fatto spiegava che si creano ovviamente tantissimi micro solchi nei metalli in quei micro solchi si va a depositare ancora di più l'ossido e poi si fa fatica ancora più a rimuoverlo però magari le altre sviende fanno meno passate meno lavorazioni di lucidatura e lasciano un pochino quei solchi quindi le mod si sporcano di più e è più faticoso andarle a pulire Gianni invece con veramente una pazienza da stacanovista ha effettuato 7 passate con diverse grane spiegava diverse paste diverse spazzole per arrivare a ottenere una finitura che non si vedrà mai perché non gli rende giustizia ai ragazzi nel video nell'inquadratura ma è veramente super super lucido super liscio cioè non c'è nessuna increspatura nessuna incanalatura nel metallo quindi fa sì che basta passarci un panno classico per la pulizia luciditario di tubi e ritorna perfetto però e questo già è una cosa fantastica però la genialata è questo ragazzi il tasto ora non ci fate caso da lucidare anche un pochino il tasto però io lo utilizzo tantissimo quindi ci sta che cosa ha fatto ha creato la filettatura all'interno del corpo del tubo e ha creato questo tasto semplicemente geniale ovvero ha messo un anello di derlin con la filettatura che si va a grappare all'interno del corpo del tubo e poi facendo pressione sale ovviamente c'è questa molla all'interno del tasto che fa salire il tasto manda in battuta il pin dell'atomizzatore con la batteria e conduce la corrente la corrente è condotta completamente da questo tasto quindi praticamente non ci sono le filettature cioè sembra una stronzata a vederlo dirlo così ma dietro secondo me veramente c'è un pensiero quasi folle praticamente facendo così ha bypassato completamente la filettatura che di solito si trova a livello del tasto quindi abbiamo un tubo senza filettatura ovviamente a parte quella del del pin 5 10 ora però giustamente è arrivato il momento di andarcelo a provare quindi batteria non sto neanche a dirvi ragazzi comunque basta dargli un'occhiata e capire che qui non ci sono fuori di sfiato non c'è la sleeve cioè questo in teoria è un prodotto ideato e concepito per persone che sanno quello che stanno facendo quindi solita tiritera legge di ohm batterie sbucciate ma probabilmente vi annoio anche a dire queste cose ma è così ora batteria questa è una batteria che ha un pochino di vita adesso è carica sicuramente però sapete che i tubi stressano abbastanza le batterie poi per l'occasione ho preso non ve ne ho ancora parlato lo adoro ragazzi è un po coatto come si e poi continuate ad avvitare il tasto per mandarlo in battuta ora ovviamente c'è la corrente in casa quindi comunque c'ho tutto aperto perché fa un caldo merda quindi è un po difficile però ragazzi credetemi spinge in una maniera impressionante impressionante altra cosa che non riuscirò sicuramente a farvi vedere per via della corrente che c'è in casa è il discorso quasi del booster del turbo della turbina che entra perché se voi sfiorate leggermente ok il tasto a una spinta ma quando mandate completamente in battuta tutta la parte conica con la parte conica che ospita il tasto beh credetemi sembra di entrare che entri proprio la turbina il turbo ragazzi su questo c'è poco da dire io non ho né la strumentazione per fare discorsi spinge poco spinge tanto c'è neanche me ne frega un cazzo sinceramente perché secondo me questo sega oltre sia spingere di brutto è veramente un animale è un'opera d'arte questa non può essere una marchetta per il semplice fatto che sono stati prodotti 200 pezzi e basta so che uscirà a breve un'altra batch in rame elettrolitico qualcosa di devastante però ripeto non può essere una marchetta questa non è una produzione di massa i 200 pezzi sono esauriti lo faccio solo ed esclusivamente perché credo probabilmente non credo ne sono certo è una delle cose più belle che io abbia mai comprato a livello estetico a livello funzionale a livello di pensiero la reputo veramente un'opera d'arte quindi i miei più grandi complimenti a gianni che ha concepito ha partorito dalla sua mente malata sempre con affetto questo capolavoro seguitelo comunque perché probabilmente uscirà appunto vi dicevo quello per rame qui ho pensato una cosa poi lo sapete io devo dire sempre quello che penso all'inizio quando ho preso questo tubo e mi sono reso conto proprio da subito di aver preso un gioiello un'opera d'arte ero contentissimo che fosse un'edizione limitata e non fosse una produzione di massa poi però col tempo che ho superato questa cosa probabilmente un po mi dispiace mi dispiace perché io credo che non dico a tutti ma vada data l'opportunità di acquistare questo questa moda quindi gianni oltre a farti i complimenti ti chiedo di valutare quantomeno la possibilità di produrne altri pezzi per dare l'opportunità veramente non dico a tutti ma la possibilità di acquistarlo perché merita merita veramente tanto e niente ragazzi che dire ancora è una mod impressionante stupefacente vorrei stare qui ad annoiarvi ancora ore e ore e ore probabilmente come pensavo all'inizio non gli ho reso giustizia perché non sono la persona più adatta per parlare di queste cose ma quello che posso dirvi col cuore che è una mod eccezionale adoro il made in italy adoro questo modo di lavorare italiano questo modo di mettersi lì di pensare l'ho detto già in altri video secondo me possiamo ancora dire e dare tanto non mi resta come al solito con l'ultima svapatina di salutarvi e mandarvi un abbraccione grazie a tutti grazie a tutti